Presidente, a un anno dal settimo congresso, oggi l'ottavo, avevamo parlato di una tua figura di ambasciatore, questo è stato per l'anno 2019 per l'ufologia mondiale. Se ambasciatore significa trottare come un globetrotter proprio di qua e di là, sì, effettivamente quest'anno mi sono trovato a dover fare questo, quanto ai risultati di tutto questo, bu, speriamo bene, perché qui attualmente la situazione è evidentemente una, americani, russi, cinesi, hanno tutti un loro specifico interesse a coinvolgersi in questo discorso prodomo sua, evidentemente. Quindi, chi è il meglio, chi è il peggio? Difficile dirlo. Abbiamo capito che ormai la tecnologia che hanno in mano le nazionali è quella, oggi però abbiamo visto anche che da quando c'è stato l'interessamento da parte anche del centro ufologico, l'abbiamo detto questa mattina, e naturalmente anche questa spintarella che è arrivata dagli americani, qualcosa in effetti nello scenario mondiale sta cambiando. Si sta muovendo e l'idea effettivamente, che poi l'ha tirata fuori un anno fa Elisondo, dicendo qui voi parlate di disclosure ma non avete capito che il disclosure è già in atto, e c'ha ragione, c'ha ragione perché evidentemente a spizziche bocconi, magari a pillole, però qui il partito di quelli che dicono che qualche cosa bisogna ormai finire col dire alla gente sta prevalendo. Quindi un 2020 che si prospetta come? Quale sarà lo scenario immediato del 2020? Il 2020 non avrà situazioni di destabilizzazione politica e mi riferisco quindi a conflitti e purtroppo il Medio Oriente non si sta mettendo bene in questo momento, presumerei che il processo possa andare avanti, francamente, però ripeto qui purtroppo basta poco perché magari gli scenari possano cambiare, e quindi è difficile fare previsioni, auguriamocelo. Abbiamo visto diversi congressi con molte presenze di ufologi, chiamiamoli ancora ufologi anche se adesso c'è la sigla UAP, ci sono poche donne, poche quote rosa, secondo te perché questo? Parliamo di quote rosa, non ci sono né uomini né donne, ci sono persone che se sono valide vanno valorizzate, e tu parli con una persona che quando c'è stata la rielezione del nostro direttivo e il buon Ladimiro Vivolotti dopo dieci anni di presidenza ha detto signori io non posso continuare a fare presidenze dopo dieci anni per cui a Rittiri tocca, io ho detto signori come presidente vabbè ci posso anche stare ma come vicepresidente voglio Susanna Urbani. E infatti ho apprezzato perché infatti abbiamo notato che è la prima volta... è una donna in gamba, competente, serena, tranquilla, in grado di mettere la gente a proprio agio, questo all'interno di una struttura è fondamentale e poi è una donna serena e questo è molto importante. Sono d'accordo pienamente con te su questo, un'ultima domanda che mi viene anche avendo ascoltato la relazione di Robert Salas, lui ha aperto la sua relazione parlando di concetto filosofico, quindi ha un aspetto più appunto legato al pensiero, legato anche a come la persona sente dentro queste evidenze fenomenologiche. È uno dei pochi però che ho sentito fare questo abbinamento filosofico. Secondo te anche qui in Italia o comunque c'è qualcuno di noi, di voi ricercatori, che comincia ad abbracciare questo aspetto anche filosofico? Assolutamente sì, assolutamente sì e aggiungo anche un dettaglio. Lui ha anche avuto sue esperienze personali che non mette in piazza più di tanto per il semplice fatto che è inutile parlare del personale. Ma molto spesso le persone che in un certo qual modo sono coinvolte in maniera molto molto pesante in questo tema hanno tutte quante qualche cosina in questo senso o hanno avuto qualche cosina in questo senso o comunque si pongono il problema in questo senso perché è ineluttabile. Prima o poi ci si arriva. Grazie, grazie Roberto Presidente, grazie, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.